Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, durante un posto di controllo effettuato nei pressi di Civitella in Valdichiana, i finanzieri hanno fermato un auto articolato che trasportava 10 tonnellate di tabacco di contrabbando. I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Arezzo hanno sequestrato 10 tonnellate di tabacco lavorato estero di contrabbando. È stata una pattuglia durante un controllo su strada nei pressi di Civitella in Valdichiana a fermare un auto articolato con targa straniera. Il tabacco era contenuto in 100 scatoloni e qualificato come cascame di tabacco grezzo. I finanzieri hanno però rilevato che il prodotto risultava venduto da una società croata ed era destinato ad una società con sede legale nella retino, ma dopo attenti controlli è stata notata una sostanziale difformità riguardo la descrizione merceologica dichiarata. Il tabacco non era, secondo i finanzieri, qualificabile come cascame di tabacco grezzo, ma cascame di tabacco lavorato, cioè fumabile, quindi sottoposto alle accise per un importo di circa un milione e mezzo di euro. Il carico è stato quindi sequestrato e gli esami dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Roma hanno confermato la versione dei finanzieri. I legali rappresentanti della società fornitrice e di quella acquirente sono stati denunciati. Mattinata di sciopero degli addetti alla ristorazione collettiva di fronte alla prefettura di Arezzo. Sentiamo le motivazioni della Zitin di lavoratrici e lavoratori. L'inflazione aumenta, gli stipendi rimangono sempre uguali e quindi è un problema, cioè non lo vogliono proprio rinnovare. E quindi è un problema. È per questo che facciamo questa cosa qua davanti alla prefettura e vediamo se riusciamo a risolvere qualcosa. Hanno incrociato le braccia per protestare per le condizioni di lavoro lavoratrici e lavoratori del settore ristorazioni di Arezzo. I lavoratori fanno parte del settore turismo, nel contratto dei pubblici esercizi che è scaduto nel 2021, quindi siamo già a tre anni dalla scadenza. La trattativa è in corso, è uno stato avanzato, è quasi in chiusura, se non che le associazioni datoriali che rappresentano grandi multinazionali della ristorazione collettiva e quindi di menze ospedaliere, menze aziendali e menze scolastiche hanno deciso di diffidare le organizzazioni sindacali dal proseguire questa trattativa. Che cosa significa per i lavoratori? Potrebbe succedere che domattina il contratto dei pubblici esercizi si conclude, per cui il bar sotto casa potrebbe avere un nuovo contratto nazionale con una nuova parte normativa e anche una parte economica, per gli altri lavoratori del comparto del turismo, della ristorazione collettiva, questo potrebbe non succedere. Difficoltà che sono state rappresentate anche alla prefetta di Arezzo, Maddalena De Luca. Siamo qui per dare dignità a queste lavoratrici, a questi lavoratori, come se per le associazioni datoriali l'impennata dell'inflazione non avesse intaccato le tasche di questi lavoratori. In provincia di Arezzo sono coinvolte le lavoratrici, i lavoratori di Elior per le menze scolastiche, Sodexo per la mensa di Prada e Dusmas per quella invece ospedaliera. Si tratta in tutto di 300 addetti che operano nel settore pubblico e in quello privato. Abbiamo chiesto di non fare più flessibilità, di non dare disponibilità e comunque di andare ai servizi essenziali, perché come sapete i servizi essenziali vanno rispettati, però loro con questo sacrificio tutti i giorni che fanno vanno a ledere una parte di quello che in questo contratto è veramente una tutela del diritto, non solo economico ma anche rispetto comunque a un welfare che per noi è fondamentale. Di fronte alla prefettura di Arezzo una doppia protesta questa mattina. Erano infatti presenti anche i lavoratori dell'Istituto Agazzi. Abbiamo un contratto scaduto da 12 anni con uno sciopero già dichiarato per il 23 di settembre, quindi l'abbiamo fatto presente al prefetto, abbiamo una struttura importante nel nostro territorio, credo che sia giusto che i lavoratori siano tutelati fino in fondo dall'organizzazione sindacale. I lavoratori di Agazzi hanno protestato di fronte alla prefettura di Arezzo perché il loro contratto è datato 2012. Da allora non vi è stata né alcuna ricontrattazione né aumenti di sorta, ma non solo per gli iscritti alla funzione pubblica CGL che non firmò l'accordo 12 anni fa relativo al contratto, giudicandolo peggiorativo del precedente. La data di riferimento è addirittura il 2008. Inoltre l'Istituto di Agazzi ha annunciato il ritardo rispetto a quanto dovuto fanno sapere i sindacati modifiche organizzative e di orario di lavoro. Sostanzialmente l'Istituto ha riconosciuto il fatto che la comunicazione del cambio turno dovesse essere fatta in altri termini e di fatto quindi ha differito il cambio del turno che andava ad impattare sulla vita dei lavoratori in modo importante. Restano aperti molti altri problemi legati sicuramente al nuovo contratto nazionale che non sta andando tant'è che abbiamo indetto uno sciopero per il 23 settembre a livello nazionale e sulle possibili ripercussioni che comunque questo cambiamento di turno produrrà nell'organico perché una maggior diluizione dell'organico all'interno di più giorni secondo il nostro avviso comporterà di lasciare la struttura scoperta in alcuni servizi. Quindi abbiamo bisogno anche di un organico che, come dimostrano anche i frequenti turnovers, le frequenti uscite dalla struttura, è una struttura che è in sofferenza. Ancora al lavoro? Sono iniziate oggi per terminare attorno al 20 giugno le selezioni per partecipare al corso di formazione gratuito per saldatura MIGMAG organizzato dall'azienda Runstand presso l'azienda Castiglionese Menci. Saranno 10-12 partecipanti al corso che partirà poi il 24 giugno e durerà 3 settimane per 120 ore di formazione. Quello in programma durante i lamesi sarà il sesto corso di formazione che si svolgerà allo stabilimento castiglionese. Nelle 5 precedenti edizioni sono stati coinvolte circa 40 persone e tante di loro ancora lavorano nell'azienda. Novità invece questa estate per quanto riguarda il trasporto ferroviario collegamenti dalle vallate al centro cittadino e viceversa anche nelle domeniche. Le domeniche d'estate si potrà viaggiare verso il Casentino e la Valdichiana col treno grazie alle corse speciali delle linee Sina-Lungarezzo-Stia-Arezzo. Una novità per i mesi di giugno e luglio che servirà a collegare le vallate con la città nel periodo di maggior affluenza turistica. Il nostro servizio prenderà inizio dal prossimo 16 giugno e quindi per 5 domeniche forniremo all'utenza, ai nostri tanti utenti, un servizio anche domenicale con due corse in andato e due corse di ritorno nel pomeriggio per poter raggiungere sia il capoluogo e sia le località in periferia nelle vallate del Casentino e della Valdichiana. Con orari che sono orari a nostro avviso confacenti per quanto riguarda le necessità degli utenti, quindi con un primo treno che partirà all'incirca alle 14.30 ed un ultimo treno che farà rientro al Capoligna per le 20.00. Quindi avere tutto il pomeriggio a disposizione per poter circolare sia per la città di Arezzo sia per le nostre belle vallate. Questo è un segnale concreto per essere attenti a quello che è stata un po' la richiesta, la sollecitazione delle amministrazioni comunali e anche in alcuni casi dell'utenza. Era un nostro progetto già da inizio e è stato reso possibile a questo punto grazie anche a una collaborazione con la Regione Toscana. La stessa cosa sarà nel mese di dicembre e questo è per dare una vera attenzione a quella che è una risposta sul territorio. Noi crediamo che il treno sia un mezzo assolutamente utilizzabile da tutti e quindi per poterlo fare dobbiamo permettere che questo servizio venga fatto nei giorni e in particolar modo nei giorni festivi, in questo caso. E questo è un segnale concreto di vicinanza e di risposta a richieste territoriali come altre ce ne saranno. Latte umano. Tante le mamme che hanno risposto all'appello del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale. Sono infatti sei quelle arruolate per la donazione. Sono sei le nuove mamme donatrici di latte arruolate dalla Banca del Latte Umano donato all'ospedale San Donato di Arezzo un mese fa. L'appello lanciato dalla dottoressa Letizia Magi, direttrice della neonatologia per i prematuri. Negli ultimi sei mesi al San Donato ne sono nati quasi 50, con età gestazionale inferiore a 36 settimane. Gran parte di loro hanno potuto usufruire del latte donato. Grazie alle sei nuove mamme donatrici, afferma la dottoressa Magi, abbiamo potuto raccogliere quasi 4 litri di latte. Il latte donato però non è mai abbastanza. È dunque importante ricordare che è possibile donare entro i sei mesi dal parto per farlo. È necessario contattare il reparto e prendere un appuntamento con le infermiere della neonatologia. Una volta che la mamma è stata arruolata come donatrice, perché le sue caratteristiche lo permettono, le verranno dati dei biberon sterili dove poter conservare il latte tirato o congelato a domicilio. Successivamente verrà ritirato con un servizio apposito. Ogni donatrice è però libera da obblighi o vincoli sulle quantità donate o sulla durata del rapporto di donazione. La seconda edizione di affido culturale ad Arezzo si è conclusa con una crescita della partecipazione che testimonia l'importanza del progetto. Un totale di 14 uscite che hanno coinvolto 31 bambini e 18 famiglie. Il progetto è stato proposto dalla Fondazione Toscana Spettacolo Ollus, realizzato con il coinvolgimento del Comune Aretino, in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo e la Fondazione Arezzo Comunità, ed è stato curato da Officine della Cultura. Per questa seconda edizione le attività legate all'affido culturale si sono svolte da gennaio a maggio. Ed invece la premiere del cortometraggio Il Cassetto, realizzato con gli attori della Potipictures Academy, ha già registrato Il Tutto Esaurito, ed è in programma al Cinema Eden, mercoledì 5 giugno alle 21.20 e poi domenica 9 alle 21.20. La Potipictures Academy è la prima scuola di cinema in Italia per persone con disabilità intellettiva. 8 gli attori della nuova classe che hanno lavorato con un team di professionisti nella realizzazione del corto girato in varie location della provincia di Arezzo. Alla Casa dell'Energia, invece, venerdì 7 giugno alle 18, la presentazione del libro di Gabriele Merlo, dirigente nazionale delle guardie zoofile, e lei da Salviamo una vita. Non si tratta di un libro semplicemente, ma anche di un manuale per salvare, proteggere e difendere gli animali. E adesso ci spostiamo a Montevarchi, dove in occasione della Festa della Repubblica sono stati ricordati Giuseppe e Anita Garibaldi. Il 2 giugno, purtroppo, è la data in cui è morto l'eroide di un buon di Giuseppe Garibaldi, ma è anche il coronamento di un pensiero, quello garibaldino, che è la Festa della Repubblica. E lui è stato uno dei primi repubblicani, perché la Repubblica Romana è stata per lui un impegno molto gravoso, è costato molti sacrifici, e si parte da lì, perché anche la nostra Costituzione, molti punti vengono ripresi dalla Repubblica Romana di Garibaldi e i Mazzini. Per cui oggi per noi è un giorno molto importante. Era il 2 giugno del 1882, quando Giuseppe Garibaldi morì nella sua amata caprera. In occasione della Festa della Repubblica a Montevarchi, in piazza Garibaldi, l'Associazione Nazionale Veterani Reduci Garibaldini ha celebrato la ricorrenza nel ricordo dei 140 anni dalla dedica dell'obelisco della città a Giuseppe e Anita Garibaldi. I monumenti come questo servono per ricordare determinati personaggi, come appunto Giuseppe e Anita Garibaldi, e quindi è importante per la cittadinanza fare eventi come questi, perché è a questo scopo che erano eretti i monumenti, cioè ricordare. Generale Giuseppe Garibaldi, grand'uomo, un uomo di sfiducia, partiva, andava, bastava un biroccino che girava tutta Italia, e dove lo chiamavano andava facendo delle battaglie e le vinceva tutte lui, aveva un grande spirito. Persone come per me, persone come noi oggi non ce ne sono, magari. È una figura trasversale che unisce il popolo anche con i vertici, e questo è servito proprio per fare dell'Italia di allora frammentata, un paese unico che ancora oggi esiste e che oggi soprattutto finalmente è democratico e repubblicano. Torna sabato 8 giugno, Pescaiola da vivere, che quest'anno tocca le 11 edizioni, una serata di shopping, divertimento e condivisione. Dalle 18 fino a luna di notte la grande festa estiva animerà l'aria che va da Via Alessandro Dalborro, Via Benedetto Croce, il largo primo maggio con spettacoli, eventi, shopping, negozi aperti, aperitivi e cene sotto le stelle, che trasformeranno così la quartiere in un vivace centro di intrattenimento. Ed un cuoco a retino invece è arrivato al terzo posto nella mondiale della cucina di tonno. La manifestazione inserita all'interno della rassegna Giro Tonno è andata in scena nella sarda Carloforte e ha proposto un confronto tra professionisti di tutto il mondo nella preparazione appunto di ricetta a base di tonno cotto crudo. La Palestina è stata rappresentata dallo chef a retino Shadi che con il suo piatto ha prima vinto la semifinale sulla Grecia e ha ottenuto il punteggio più alto da parte della giuria popolare ed ha così conquistato l'accesso alla finalissima dove ha meritato il terzo gradino del podio alle spalle solo di Giappone e Brasile. Questa mattina invece in Valdichiana, Castiglion Fiorentino, un concerto a sorpresa dell'icona rocca americana Marchi Ramon nella piazzale antistanti Luceo Giovanni da Castiglione di Castiglion Fiorentino come vediamo in queste immagini. Il batterista che di recente ha acquistato una cata nel centro del paese della Valdichiana si è esibito alla batteria regalando ai ragazzi ma anche a tante persone che si sono fermate ad ascoltarlo alcuni dei suoi pezzi più famosi. E adesso la pagina dello sport, la storica rivista Super Tifo da decenni, punto di riferimento delle tifoserie organizzate di tutta Italia ha premiato la Curva Sud, lo spettacolo di bandiere e colori del 9 settembre è infatti il migliore di tutta la Serie C. L'occasione era quella dell'esordio casalingo in campionato, la settimana prima l'Arezzo aveva espugnato Rimini e 24 ore dopo invece la società aveva festeggiato lo storico traguardo della Centenario. Allo stadio erano presenti 4.268 persone di cui 2.319 paganti ad accogliere l'ingresso in campo degli Amaranto e della Carrarese la coreografia allestita dai gruppi organizzati della Curva Sud, uno spettacolo di voci e colori curato in ogni dettaglio per tutto il mese di agosto. E adesso torniamo in Valdichiana, a Tavernelle, dove la scorsa domenica si è svolto il 21esimo trofeo città di Cortona. Sono arrivate da tutta la penisola in Valdichiana le migliori giocatrici, tra cui le vincitrici dello scudetto nel 2023 ed alcune delle atlete che hanno vestito la maglia della nazionale alle ultime edizioni dei campionati mondiali ed europei. Domenica 2 giugno è stato infatti il bocciodromo comunale di Tavernelle ad ospitare il 21esimo trofeo città di Cortona Memorial Enzo Basanieri, gara nazionale individuale e femminile organizzata dall'ASD Cortona Bocce. Le giocatrici provenienti prevalentemente dal centro-sud Italia si sono affrontate con gironi eliminatori dislocati nei bocciodromi di Arezzo, Chiusi e Chianciano, per poi proseguire con le fasi finali nel pomeriggio presso la sede della società organizzatrice, a dirigere la manifestazione l'arbitro nazionale Marco Rossi. A primeggiare è stata Chiara Gasperini, giovane rappresentante della Lucrezia, che si è mostrata come bestia nera per la Cortona Bocce, avendo battuto in semifinale Giulia Pierozzi e in finale Rechere Maggio, entrambe appunto tesserate per il sodalizio cortonese. A completare il podio infine Lorita Leonori delle Bocce Arezzo. L'Accademia Karate Casentino ha lasciato il segno all'Eurocup in Austria. Quattro atlete della società di Rassina sono state convocate dalla rappresentativa regionale toscana per combattere alla manifestazione internazionale, dove misurandosi con quei tani di 14 nazioni europee sono riuscite ad affermarsi. Lara Piantini ha vinto l'oro e Laura Benante ha meritato invece un bronzo. L'aretino Samuele Nicchi, nato e cresciuto sportivamente nell'SD Accademia Karate Arezzo, invece ha conquistato il titolo italiano nella categoria 68 kg maschile, laureandosi campione a soli 13 anni non compiuti e alla sua seconda partecipazione alla Kermess nazionale. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci! Grazie! 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 Grazie!